buonasera buonasera e buonasera e il nostro paolo colombo in pole position è già lì almeno io lo vedo come state tutto bene allora questa giornata di metà settimana questa mattina invece nel lancio detto è già fine settimana invece no siamo solo a mercoledì e quindi ci sarà la puntata della settimana finale venerdì di cui poi vi racconterò alla fine allora vi racconto questa brevissima cosa prima di ecco buonasera silvano che è arrivato in questa piccola cosa che è successa oggi che una signora entrata si guardava le sue vetrine così colà e poi mi fa belli questi occhiali sa io ho fatto la cataratta quindi non ho più occhiali però questa bellezza sa cosa fa lo metto come arredamento e come arredamento con lenti con antiriflesso abbiamo fatto un bellissimo occhiale per far girare l'economia mi ha detto la signora se lo ricordi e io me lo ricordo ci mancherebbe altro quindi detto questo piccolissimo aneddoto che però tira su diciamo il morale in questa scala di sali scendi di qua di là insomma quello che ci dicono che speriamo si rimetta a posto direi di lanciare la sigla poi ritorniamo a presentare il l'ospite di questa sera sigla rieccoci buonasera a tutte le persone che ci sono collegate lorenzo sabino cleves massimiliano buonasera ci siete tutti stasera sono molto contenta allora anche perché abbiamo un ospite molto appassionato di questo mondo dico solamente due cose perché poi lui ha diciamo questa modalità di raccontare le cose così soft cioè dei concetti molto belli che arrivano dritti al cuore che io ieri sono stata così per un'ora ad ascoltarlo e quindi vorrei che sentiste le cose che ha da dire dalla sua voce però vi dico che è entrato diciamo da giovanissimo in questo mondo nel settore dell'occhialeria e si è innamorato in realtà di questo di questo mondo che discorre tra le vene tra le vene come nelle vene come tutti i bellunesi top come dicevamo stamattina già da piccolissimo perché andava in giro insieme al papà che aveva bisogno di occhiali costruiti su misura nelle botteghe artigiane insomma del bellunesi lui guardava tutti questi questi materiale la materia con cui si avevano creati tutti quanti insomma le cose necessarie per creare gli occhiali come si faceva una volta si fa ancora adesso anche se in maniera un po diversa e si è innamorato di questo mondo tanto da concepire forse già da da piccolino l'idea la curiosità ecco da sviluppare questa curiosità di sapere com'è fatto un occhiale e ed è poi c'è arrivato in questo mondo dall'abbigliamento è arrivato nel mondo dell'occhiale e ha una ha macinato tantissimi chilometri come agente come brand ambassador di marchi molto interessanti molto belli di cui magari ci dirà lui un po un po di più e lui è Damiano Dal Ponte forse non l'ho ancora detto Damiano Dal Ponte che come tutti i nostri ospiti presentiamo con un piccolo video e poi lo chiamiamo video per Damiano Dal Ponte e rieccoci rieccoci e quindi a questo punto chiamiamo con noi Damiano eccoci qua eccoci ciao 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 come stai tutto bene bene grazie 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 dell'invito tu hai visto il video l'hai visto no non l'ho visto coprirai tutto dopo abbiamo mandato tutta una roba mamma mia qua c'è già andato va bene va bene va bene ci sono un sacco di persone che ti conoscono e so che anche tu del mondo dell'occhialeria che ti stanno che sono arrivati a insomma per salotarti per ascoltarti ti conoscono ma raccontarsi è sempre bello un po' lo spirito diciamo di di radioattica raccontare le persone e tu di storie da raccontare ne hai veramente tante tante vero dal passato ma forse ancora di più sul presente e ancora di più secondo me sul futuro su una visione che ieri sera mi proiettavi però andiamo con calma andiamo per gradi non so se tu mi hai ascoltato comunque all'inizio quindi ho fatto una breve introduzione semplicissima giusto per introdurti però magari un attimino potremmo parlare del passato cosa dici Damiano? qualcosina come se è arrivato nel mondo dell'occhialeria praticamente quasi subito e insomma i vari passi che hai fatto fino fino ad oggi ci racconti un po' volentieri volentieri allora ho sentito che parlavi appunto di mio papà e mio papà è stato una pietra migliare per la formazione della mia vita come tutti i genitori danno un imprinting importante a quella che è la formazione di un futuro ometto che cresce e viene avanti mio padre era un non vedente mio padre ha perso la vista alla fine della guerra in guerra e aveva bisogno chiaramente di occhiali fatti per non vedenti quindi con delle barre laterali con degli appoggi particolari e mi portava con lui in questi laboratori del cadore dove aveva questi amici che gli facevano questi occhiali su misura allora c'era la celluloide ancora non c'era l'acetato di cellulose quindi era un materiale molto più delicato con delle lavorazioni particolari e questo era una cosa che mi ha sempre affascinato che adesso con tutte le ancore che ci possono essere come ricordo ha contraddistinto quello che è il mio percorso di vita insomma che poi nei momenti di stand by che ci possono essere per altri interessi poi hanno condotto a questa mission questa passione più che mission della mia vita ed è nata lì la curiosità all'inizio ti sei subito la cosa che mi ha impressionato è che tu non ci sei arrivato per gradi la curiosità su come nasce un occhiale tutto quello che si fa dalla materia prima fino alla vendita c'è proprio tutto ti sei interessato al processo completo tanto da no da buttarti a capofitto da subito beh sai abbiamo anche giocato facile perché qui c'era 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 ogni angolo produceva occhiali qui quindi non non è che fosse una cosa molto difficile però è mosso da da quello che era l'entusiasmo di mio padre perché io quando lo accompagnavo in giro è ero i suoi occhi no quindi ero mosso da una curiosità molto importante dovevo spiegare quello che vedevo anche quando mio padre era un appassionato d'arte quando andavamo delle mostre o cose del genere ero avevo credo dieci anni mi faceva descrivere dimmi che cosa avevi dicevo quindi dovevi metterti nella condizione di descrivere ma non meccanicamente con patos anche quello che 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 vedevi e lui ti chiedeva che cosa che cosa suscitava in me questa cosa quindi mi ha sollecitato fin da piccolo ecco immagino insomma non sono insomma situazioni che ti ha sicuramente formato non da piccolo ma insomma un po' anche questo approccio di guardare le cose dentro si vince molto cioè parlando con te viene fuori molto no di guardarle proprio dentro questa sarà un'intervista molto olistica eh io te lo dico subito mi va benissimo quindi va bene così è perché bisogna avere un'altra visione tu mi insegni che 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 l'occhio trasferisce rovesciata l'immagine no eh sì quindi bisogna avere bisogna avere anche eh la chiarezza in per vedere le cose da un altro punto di vista sempre così la vita quindi assolutamente specialmente adesso eh Damiano avere questa capacità di visione da diverse angolazioni in diversi no è sicuramente potrebbe essere un po' la chiave di lettura no di quello che ci prospetta il momento beh è molto importante sicuramente per dire un po' il percorso poi arriviamo subito a questo discorso che per me è molto interessante eh insomma tu hai sei stato Fedon, Occhiali, Galileo, Montature, Mikli che è stato un anno che rivieni giusto? il clip penso sia stata una palestra importante per credo gran parte delle persone della mia età che hanno lavorato che hanno avuto la possibilità e il piacere di lavorare con lui perché era un personaggio istrionico che ha che ha veramente dato tanto a livello di passione a livello di di è stato il primo grande disegnatore d'occhiali secondo me ok e quindi poi insomma fino ad arrivare sostanzialmente come agente insomma come rappresentante giorni nostri ehm insomma intorno al 2011 eh credere e sostenere diciamo in un progetto che oggi è ancora eh insomma un bellissimo altro che è res rei dopodiché eh insomma lì è il 2011 no quando siamo partiti partiti e poi Apter e Danciari che è un progetto eh sì sì Danciari che è un progetto eh di un italiano del di Giuseppe Laboria conosciutissimo nel settore un progetto giapponese però con proprietà italiana quindi mi leggo il territorio e va bene così. Giusto che lo stiamo nominando si è ovviamente collegato Giuseppe lo salutiamo e ti dice subito Michli non era Michli è. Michli è sì. Subito puntualizzato va bene ok giusto per permettere un po' di insomma di 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 quello che sta succedendo in in contemporanea perché poi devi sapere che eh in radio ottica no arrivano si salutano se la raccontano poi sentono poi intervengono cioè è tutto un bel salotto così di ok allora quindi eh insomma fatta questa insomma questa carrellata diciamo di di esperienze di anni no che tu hai eh diciamo attraversato eh sei arrivato poi a un momento di di quasi sabbatico no dove ti sei un po' fermato e hai detto c'è bisogno di mh avere il tempo di di guardare le cose come diciamo prima anche da altri punti di vista ecco c'è un po' questo momento di 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 stop che è stato qualche anno fa giusto e che poi ti ha portato ad una dimensione un po' diversa e anche a vedere del del delle situazioni nelle quali riesci a dare una mano comunque a dare dei consigli delle direzioni anche a ad altri colleghi del settore vero c'è un qualcosa del genere però concentriamoci sul momento di stop su quello che è generale sì sì assolutamente assolutamente beh eh un discorso punto olistico come ti dicevo prima nel senso che eh credo che la visione interiore associata a quella che è la comunicazione di un di un lavoro eh sia molto importante per quanto riguarda il soprattutto in questo periodo in questo periodo poi eh giochiamo facile eh nel senso che è importante ristabilire un contatto diretto con con le persone con con dei valori che che negli ultimi anni sono andati via via eh scemando o quantomeno eh si sono trascurati per per dei contesti relativi a alla crescita insostenibile che che ahimè ha contraddistinto questa questa epoca e questo periodo questo periodo storico no? Sì eh una cosa che mi dicevi che insomma sintetizza è uno dei tanti punti eh insomma di questa riflessione è una grossa che poi si lega al discorso dei valori che ci stavi dicendo una grossa concentrazione cioè tutti schiavi dei numeri e non della qualità questo è stato un momento uno è stato assolutamente eh chiaramente nel vortice del del di questo grandissimo criceto che gira abbiamo trascurato quello che è un discorso proprio di qualità e di di base per per poter comunicare un prodotto nell'essenza eh apparire per non essere eh molta molto fashion molta apparenza ma di qualità molto poca molto poca quindi abbiamo perso anche il valore no? Del 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 prodotto io mi ricordo mi mi ricollego un attimo all'abbigliamento quando lavoravo i primi anni e per showroom importanti anche della della nostra storia tessile facevamo i corsi ma sto parlando di quasi 35 anni fa alle persone spiegavamo le differenze che c'era tra un cashmere un filo due fili mohair e via dicendo cosa che io ho trovato quando sono entrato nell'ottica veramente una 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 difficoltà importante a trasferire un concetto di qualità perché proprio non c'era la conoscenza cioè vendavamo un 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 occhiale finito appunto un oggetto finito ma non vedevamo quello che c'era tra le spalle questo è una cosa che mi ha sempre lasciato un po un po interdetto no? Che questa poca formazione questa molta comunicazione come se fosse arrivato ma anche qui da noi io ieri sera ti ho detto che noi abbiamo la tradizione ma non abbiamo la cultura che può sembrare una una cosa assurda però è vero quando sei dentro in un volume che gira continuamente non riesci più a vedere quali sono le linee guida tutto lì sempre personalmente non voglio offendere nessuno e nessuno si deve sentire offeso da quello che dico perché è solamente una una mia visione tentata da ieri quando chiacchieravamo appunto di di questo hai detto appunto due cose una è quella che abbiamo detto dei insomma dei numeri e di essere po schiavi dei numeri e anche un'altra cosa e io mettendo insieme queste due cose la prima questa la seconda che vado a dire in all'inizio di questo del ventennio appena passato cioè concentrandosi un po intorno agli anni duemila può essere stato un fattore scatenante di un mercato fatto cioè diverso e nella quale si è trovata un'effettiva difficoltà di comunicare il valore il primo elemento è questo di dare tanta importanza ai numeri che ha portato ovviamente eh a doverne fare di più e a dover ottimizzare e quindi a delocalizzare c'è trovato c'è c'è stato diciamo anche il momento in cui questa cosa qua eh quest'idea dei volumi si è concretizzata altrove quindi portato non solo i volumi ma anche tante altre cose e l'altro elemento il secondo che io ho legato a questo primo per darmi anche un po di 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 risposte che quindi ti giro a te questa questa riflessione è che l'ottico si è accomodato accomodandosi ha eh generato una ehm risposta da parte di tutto il settore di forte ehm cioè che è entrata un po anche in quelle che erano le le cose di sua pertinenza assolutamente quindi mettendo insieme questi due elementi possiamo analizzare un po questo momento che poi ha dato vita a questo ventennio che speriamo che sia solo eh questo che si creerà invece tutta un'altra eh questione invece nel futuro intorno al concetto di valore beh sai ehm giustamente quando hai detto tu beh io ahimè quando sento queste cose mi rendo conto che sono tanti anni che faccio questo lavoro beh un po sorrido però va bene così però una volta c'era la forza da parte della degli ottici degli ottici vecchia maniera di di avere di avere il pallino in mano no di di avere anche eh una considerazione importante dei prodotti che avevano di quello che che andavano a consigliare dei primi stili sto parlando che la prima linea che che è stata importante è stata Dior negli anni negli anni 80 70 80 facevano degli occhiali che adesso stanno riprendendo tutti c'era Cazzal c'era la viola c'era c'erano tanti marchi c'erano i primi Gaultier ce n'erano tanti marchi storici ce n'erano tanti e soprattutto c'era una vena creativa molto importante io poi ho conosciuto anche delle persone che hanno fatto un po' la storia di questo persone che non ci sono più quale Luciano Esposito che io ritengo come ti ho detto ieri sera che sia stato uno dei più grandi disegnatori di occhiali da donna le prime lacche sono state fatte da lui per poi continuare a quelli che sono adesso amici che hanno fatto comunque che hanno che hanno segnato un periodo quali sono Bruno Palmeggiani Paolo Seminara che hanno fatto comunque che hanno ricavato un periodo storico del del loro trascorso con con queste vene stilistiche con l'avvento della comunicazione massiva e delle firme soprattutto delle griff in maniera perché le griff una volta erano da pannaggio di piccole di piccole aziende cioè non erano ancora entrate nella nella commercializzazione totale e chiaramente hanno creato hanno creato la richiesta creando la richiesta l'ottico secondo me si è un po impigrito perché sai quando ti chiedono l'occhiale o ti chiedono quel brand o cose del genere entri in un loop dove non riesci più a vedere quanto sei tu ma la stessa cosa per gli agenti quando tu hai in mano una valigia importante magari sei anche soggetto a a delirio di onnipotenza pensi di essere la persona più richiesta dopo ti rendi conto che quando ti tolgono la valigia ti guardi e dici ah ecco io che sono no? è un po... il momento qua è stato il momento in cui l'ottico non dovendo non dovendo più spiegare il motivo quello che c'era dentro quello che stiamo cercando di di dire che è importantissimo no? ma lo faceva di default lo ha delegato ad un nome che da solo per garantire tutto quel discorso assolutamente che poi e quindi beh abbiamo toccato con mano Franca esatto una cosa scatenante no? di questa di questa situazione qua è stato percorrendo velocemente questi vent'anni un po' il mercato attuale degli ultimi anni ma anche quello che abbiamo adesso che tu mi dicevi troppe linee troppo frammentato e una comunicazione perfetta a volte per prodotti che non lo sono proprio assolutamente assolutamente ecco questo mercato con questo non voglio dire che non ci sia diciamo siamo in un libero mercato ognuno è in grado di esprimere quello che vuoi però c'è molta confusione no? ci sono molti prodotti uguali cambia la comunicazione ma il discorso non cambia concettualmente gli occhiali che si vendono sono sempre quelli ci può essere un colore di tendenza una comunicazione fatta meglio poi entriamo nella nota dell'influencer io quando sai che sento influencer mi ricollego a qualche malattia virale perché non è proprio una cosa che secondo me non non ha motivo di esistere però è una mia è una mia visione mi hai detto proprio gli influencer portano le malattie giocando un po' sul termine ovviamente no vabbè ma sappiamo come è cambiata è cambiato tutto il discorso però è bisogna recarsi le ferite su queste cose in maniera importante io direi che a questo punto avendo insomma creato parlato del passato un po' di quello che è attualmente la situazione se tu dovessi gettare uno sguardo nel futuro cosa pensi di vedere? cosa vedi se pensi di vedere fra due dieci anni non so futuro allora per quanto mi riguarda vedo solo cose belle perché perché ho una visione ho una visione dettata da da una da una fiducia assolutamente che è nel nel prossimo prima di tutto ho una ho una visione molto empatica della vita quindi di connessioni di rapporti non faccio un po' fatica a essere schiavo dei numeri se anche i numeri possono essere importanti però i numeri possono arrivare col tempo se riusciamo a coinvolgere una persona e in questo in questo in questo contesto parlo parlo nello specifico con con te con con altre persone che sono collegate che sono di settore dove la fiducia è molto importante soprattutto sui rapporti umani secondo me si ritornerà un po' indietro perché vedi come i centri commerciali hanno tolto il respiro alle botteghe di paese adesso l'online sta togliendo il respiro ai centri commerciali però sono tutte cose che si vengono e adesso entriamo nella visione olistica nella mia vita dove il rapporto umano non bisogna implementarlo io credo che dopo questa questa paura generata da questo momento storico che stiamo vivendo ci sia proprio la voglia di di riprendere in mano la vita anche se in facebook hanno messo anche l'opzione dell'abbraccio adesso che è una cosa che che è simpaticissima che mi fa ridere però ci mancava abbiamo proprio bisogno della connessione abbiamo bisogno di ristabilire e di parlarci veramente col cuore nel dire che sì andiamo avanti tutto bello i rapporti di lavoro però le prevaricazioni ci danno fastidio nella vita di tutti i giorni quando le subiamo e credo che commercialmente ci debba essere un un gentleman agreement con tutti cioè dobbiamo avere la la il tempo soprattutto per poterlo fare non la voglia perché mi auguro che la voglia sia in tutti noi di parlare veramente col cuore di poter costruire qualcosa vero che non abbia solamente un un effetto un pagliativo sai che per me pensiero verbo e azione devono essere in sintonia per essere credibili dobbiamo si avendo Franca sei andata via no ecco sei tornata sei tornata in un momento eri andata via non sei prestata qua mi sono sentito perso no no al massimo ci ritroviamo non preoccuparti allora pensiero verbo e azione è talmente vera questa cosa cioè è talmente essenziale che se fosse cioè sembra una cosa anche super semplice cioè io penso una cosa la dico perché la penso e agisco perché l'ho detto ma perché lo penso ok in questo momento se questo distillato arrivasse per endovena a qualcuno che sta nelle camere in alto sarebbe tutto un altro mondo vabbè sarebbe tutto un altro mondo perché il problema in questa visione che tu c'hai in questa insomma modalità che condivido appieno di 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 pensiero e di approccio a quello che dovrebbe essere ma non solo il mondo del lavoro anche il mondo cioè tutta la sfera personale è che più guardi più vedi che le parole a volte specialmente i social hanno anche enfatizzato questa cosa sono vuote o vengono usate a sproposito o sono vuote bisognerebbe dare alle parole un peso che hanno il peso ma il marketing non lo fa lo deve dire la cosa ma cioè viviamo in un mondo dove le parole vengono usate strumentalizzate non utilizzate che è diverso è la grande differenza tra essere un uomo di parole e un uomo di parola qua c'è c'è proprio un mare no dove e questo è è il male del pianeta è il male del pianeta quindi per lavoro ovviamente sei stato una persona che facendo tanti chilometri conoscendo tante persone per lavoro quindi gestendo poi il rapporto gli agenti sono una figura nel settore dell'occhialeria che a me piace tantissimo perché io dico sono proprio questi ambasciatori che portano il valore che te lo trasferiscono che hanno un ruolo molto importante per trasferire quel valore all'ottico che poi deve trasferirla a sua volta perché se qualsiasi anello della catena è debole la catena si spezza però se quello in particolare che porta tutto il lavoro che è stato fatto per creare quel valore e non lo fa nella modalità corretta quindi non non solo uomo di parole ma anche di parola e la cosa non funziona quindi tu che l'hai fatto questa cosa qua cioè che hai speso tante parole in una modalità però ho sempre ho sempre cercato ho sempre cercato di fare del mio meglio con questo non voglio dire che senza peccato scagli la prima pietra però ho sempre cercato di impegnando molta parte del mio tempo nella comunicazione ho fatto il conto dei chilometri che ho fatto nella mia vita dopo che ho fatto pesare questo non te lo dico neanche non te lo dico se per ogni se per ogni se per ogni chilometro avessi guadagnato un euro sarei plurimilionario davvero quindi tornando indietro mi hai detto ma perché faccio questo lavoro perché ho bisogno di relazioni umane ho voglia di conoscere ho voglia la curiosità che mi è stata sempre data dalla mia storia da bambino e tutto ho sempre cercato di riportarla cercando di fare quello che meglio potevo fare ho sbagliato anch'io tante volte nella vita non è che siamo esempi poi ci sono le varie tappe le varie età però è importante essere dare l'imprinting reale di quello di quello che siamo non solamente un riparvenuto delle persone che oggi ci sono e domani non ci sono impegno il mio tempo cerco di farlo al meglio con questo ti ripeto incontri persone che la pensano come te persone che non la pensano accettiamo tutto però il mondo è bello perché vale ed è anche bello insomma è quello che crea il confronto il fatto di essere comunque in uno con un'idea ascolta Damiano i cavalli sì grazie di avere di avere di avere aperto queste parentesi i cavalli sono stati una parte importante della mia vita importante come conoscenza come come concetto proprio di crescita personale si parlava ieri sera i cavalli vivono il qui e ora in maniera importante loro sono qui sono prede nella vita quindi sono collegati al momento ti fanno stare lì e con l'approccio che ho attualmente con i cavalli che con degli amici ho intrapreso questo questo percorso mi è servito molto anche nel rapporto con gli altri perché va a a far uscire proprio l'essenza di una persona va a cogliere nel profondo come tutti gli animali però il cavallo secondo me è la carta vincente per tante cose va a farti vedere quelle cose che anche non vorresti vedere e che è una cosa molto importante quindi sotto questo sotto questo profilo un contesto di di crescita personale guarda io ho iniziato che facevo l'accampagnatore per per ipoterapia con i bambini disabili con con la cavalla che avevo all'epoca c'erano questi bambini che avevano che avevano bisogno di riequilibrare la loro essenza e le loro patologie fisiche e vedevo cosa riusciva che cosa riusciva a dare un cavallo e questo mi ha incuriosito sempre di più con con tutto quello che poi io una persona molto curiosa nella vita ho cercato di 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 portare avanti fino a ad associare gli ultimi anni in una ricerca che che mi auguro non so se entro l'anno riuscirò a finire il libro sto scrivendo un libro sui cavalli l'uomo e l'energia e che mi ha portato adesso a a iniziare dei corsi che credo che quest'estate inizieremo sulla sulla crescita personale sull'energia sulla gestione dell'energia perché è quella quella eterna sconosciuta di cui noi tutti parliamo di energia però non sappiamo neanche minimamente che cose sia da dove arriva quindi credo che sia molto importante ma tu hai mai visto energeticamente quando qualcuno entra in negozio da te come si pone guarda che non fanno dove mettersi quelli sono in conflitto per anni con l'energia ma da qui guarda ci divertiremo una volta che ci troviamo c'è l'energia vero no è interessante questo aspetto qua perché poi tu come dicevamo prima hai diciamo anche trovato una modalità di passare queste tue riflessioni questa tua modalità cioè queste tue riflessioni sulla modalità di essere anche legata al lavoro con altre persone con altri insomma colleghi no che fanno questo proprio perché è cambiato il settore perché è cambiato e perché c'è da focalizzarsi in ambiti diversi come abbiamo detto prima il valore o comunque il potere della parola quella giusta cioè quella vera e tutto questo no hai creato diciamo hai creato ti viene spontaneo condividere quella che è la tua riflessione anche con altri con altri colleghi che si occupano dell'ambito commerciale e quindi hai trovato una modalità di condivisione con loro e hai delle persone a cui fai una sorta di consulenza su questa ma non è neanche una consulenza è una condivisione se ho capito da un punto che magari affrontiamo un attimino che è la destrutturazione dell'io dell'ego dell'ego forsi come da quel punto di vista là vabbè sai nel rapporto interpersonale abbiamo abbiamo sempre una una nota di sofferenza nella valutazione delle cose e questa è dettata principalmente dall'autocelebrazione e dall'ego l'ego è la più brutta bestia anche da un punto tutti tutti quanti tutti quanti cercano di 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 scappare quando quando l'ego comincia a prendere delle situazioni importanti non sai neanche più da che parte girarti perché non sai più chi parla non sai più chi parla quindi il fatto di non prendere nulla da un punto di vista personale non supporre nulla far sempre del proprio meglio essere gentili con la parola è un pay off che nella mia vita mi ha insegnato tanto e quindi soprattutto in questo momento con quello che sta venendo avanti è il fatto di essere puliti e vedere proprio con gli occhi del bambino che è in noi vedere cosa sta venendo avanti cancellando tutto il background che abbiamo culturale lavorativo per avere un occhio nuovo è molto importante non siamo non dobbiamo essere condizionati dalle visioni che ci hanno accompagnati fino adesso questo porta le più grandi sofferenze noi affrontiamo il futuro con l'esperienza del passato l'errore più grande si possa fare adesso adesso noi abbiamo la possibilità di creare qualcosa di nuovo sia da un punto di vista commerciale che da un punto di vista culturale sociale è una cosa che a mio avviso dopo chiaramente io sono un sognatore chiaramente penso penso sempre che ci sia sempre qualcosa di buono all'interno di una persona nascosto sotto quintali di polvere però c'è sempre l'essenza e quindi bisogna guardarlo con un occhio nuovo anche da un punto di vista commerciale Damiano non è facile pensare si pensa sempre che l'esperienza sia poi la chiave necessariamente ma è anche spontanea questa cosa la chiave di lettura per affrontare le situazioni nuove ma tu dici questo è il momento in cui più di tutti bisogna un po' resettarsi un po' o no stai dicendo una roba del genere per affrontare una nuova situazione con una uno sguardo nuovo se tu affronti delle situazioni e fai delle domande su cosa può essere un qualsiasi domanda tu tu vuoi porre a una persona la poni sempre inconsciamente con questo background con la tua conoscenza passata quindi prima di tutto sei nell'aspettativa perché comunque aspetti no e chi vive nell'aspettativa e questo è purtroppo il l'obiettivo di del sistema in cui viviamo l'aspettativa porta alle delusioni perché ti aspetti qualcosa ma non è così che deve essere l'aspettativa non è libero arbitrio quindi tu fare un passo indietro rispetto a noi stessi in modo di avere quella lucidità e quella possibilità di non avere preconcetti aspettative che mi possano far vedere con una visione nuova con uno sguardo più fresco assolutamente però ripeto è una è una mia è una mia visione è una mia è una mia constatazione e tu fai questi discorsi cioè comunque condividi diciamo questa modalità con colleghi ma se c'è se c'è la la possibilità i colleghi che io io non sono un animale sociale tantissimo ho perso con gli anni la voglia di di essere socialmente utile chiamiamo socialmente rappresentativo non mi piacciono non mi piace la ribalta perché preferirei che che fosse un risveglio non indotto da una da una da un da un condizionamento ma il risveglio deve partire proprio da da ogni persona quindi meno interagisco con con queste cose qui e più e più mi trovo a mio agio no perché non ho più bisogno di queste cose quando ti ti parlavo ieri dei mi piacerebbe che ci fossero dei simposi dove le persone arrivano discutono veramente direttamente senza nascondersi dietro a varie maschere che parlassero tranquillamente per quello che siamo e questo è un momento molto importante è molto importante perché il sistema in cui viviamo ti porta ad essere sempre in difetto hanno bisogno sempre di trovare un colpevole quindi ti senti tu a disagio se c'è qualcosa che non va questa invece è una situazione trasversale che ha colpito tutti qui siamo tutti uguali quindi in questo momento qui è lì che deve nascere questa forza che secondo me è una forza interiore che deve essere gestita dove le persone devono avere una condivisione creativa importante bella è la creatività che porta avanti tutta la nostra giornata un lavoro un'altra cosa infatti che mi dicevi è che la creatività non è a comando è un po' il mondo che era creato di per forza le novità per forza allora è una creatività che ha delle scadenze la creatività è qualcosa di libero che vola libera dovrebbe essere non a comando quindi anche questo può assolutamente mi ricordo quando ero nell'abbigliamento c'era Azzedina Leia che era uno stilista secondo me fantastico che è stato il primo a togliersi da quello che è un contesto commerciale perché le riflessioni che faceva era ma io non posso produrre creare ogni sei mesi per un consumo che non mi appartiene la parte creativa è una parte creativa mi può venire un anno posso stare tre anni senza creare c'è il mio imprinting ma non è che posso produrre quindi dovremmo fare un passo indietro e quest'anno il passo indietro lo facciamo in maniera importante perché io non credo che ci siano aziende che adesso producono una seconda collezione per il silmo adesso ci cucchiamo la collezione del mido fino al mido prossimo ed è giusto che sia così diamo continuità diamo valore diamo 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 vita a un prodotto se no è continuamente così poi sai che io sono guarda che arriva subito il Fabio stramare che dice la creatività deve essere uno stato di grazia è quella la filosofia poi un'altra cosa che dicevi parlando di questo è appunto che i negozi proprio per tutto quello che siano è stato comprano malissimo beh allora io rispetto tutti i negozi anche perché come ti dicevo ognuno a casa sua fa quello che vuole però nell'analisi di come sono gestiti tante volte i negozi e la sofferenza che porta il comprare in una determinata maniera c'è una c'è una vendita molto dissipata molto allargata no ci sono molte molte coppie male assortite se tu vai in un negozio di abbigliamento e ti piace un colore ti piace un modello chiedi in che colore le fanno chiedi le taglie noi con gli occhiali siamo facilitati e non abbiamo le taglie però quantomeno dovremmo lavorare per assortimento per c'è una c'è una maniera di comprare che deve essere una volta dicevano chi più spende meglio spende cioè chi più spende meno spende nel senso che gli dura la roba ma è così anche con gli occhiali cioè non puoi essere approssimativo nel presentare una collezione nel presentare un colore qui però non ce l'ho però ripeto questo è un dato di fatto però allora io direi innanzitutto ecco abbiamo una Elena Lenzi che dice finalmente non parliamo solo di occhiali ma di ripensare ad un sistema che ha mostrato molti limiti che è insomma quello che stiamo dicendo e quando mi dicevi appunto che i negozi comprano malissimo intendevi che magari ci sono troppe cose dettate dal mercato dall'essere veloce dalle tante collezioni e poi magari dalla necessità cioè dalla dicevi bisogna innamorarsi della filosofia di un prodotto beh sai la visione è molto importante chiaramente qui devi entrare anche un po' nell'intimo no? devi entrare proprio a contatto con la storia di un occhiale l'occhiale devi guardare ti deve nascere da dentro l'occhiale quando lo tocchi ci sono degli occhiali che quando li tocco con rispetto per tutti però sono imbarazzanti non senti deve essere una continuazione del tuo essere della tua intimità è un organo esterno l'occhiale quando diciamo della filosofia di un prodotto vuol dire che non solo la filosofia deve essere apposta e poi il prodotto non c'è deve essere la bontà del tutto cioè la filosofia che ti arriva perché hai toccato il prodotto ti è arrivato la filosofia combattere faccia col prodotto quella è la vera cosa secondo me che deve essere un po' quella che ti fa scattare l'innamoramento perché anche gli ottici devono tornare ad innamorarsi di quello che combano questa è la verità deve essere tutto molto congruo ecco ritornando pensiero parola reazione esattamente esattamente quindi è veramente importante che le scelte che devono essere fatte devono essere fatte proprio con una riflessione con un capire anche che cosa muove delle persone a creare sto parlando di creare delle collezioni importanti non sto parlando di occhiali copia e incolla o queste cose qui quindi ognuno cerca a monte quando mi dicono vedo tanti colleghi mi dicono sì però adesso devo scegliere un marchio perché mi hanno chiamato per quello però vengono chiamati per portare qualcosa solamente per aggiustare un conto economico quando fai quel tipo di valutazioni che per carità sono importantissime però vai a svilire tanto a monte io vorrei far capire che non ci sono delle persone che portano una valigia ma ci sono delle persone che fanno delle selezioni fanno delle ricerche a livello internazionale per avere dei brand se io vado a presentare dei brand a dei clienti quantomeno punto primo conosco le persone che lo producono o che lo disegnano in secondo luogo vedo se poi è congruo e può essere di appeal nel mio portfolio e soprattutto con le persone a cui posso a cui posso posso presentarlo posso posso spiegarlo cerco di di fare al meglio ok eh sì allora vediamo perché abbiamo un po' di domande quindi che adesso ti vediamo Lorenzo Lorenzo Scategni cosa fai oltre a dirglielo per migliorare il modo di comprare dei tuoi clienti cosa farei innanzitutto innanzitutto bisogna vedere prima di tutto il prodotto che abbiamo perché nella 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 banalizzazione di tutto questo che c'è noi abbiamo la presunzione di andare a vendere un prodotto a tutti mettendo tutti sullo stesso piano e con tutto rispetto che tutti quanti possono essere fluibili però tutti quanti non sono i clienti adatti per un tipo di prodotto quindi è un mix da poter da dover da dover prendere in considerazione poi ci sono gli innamoramenti gli innamoramenti fanno parte del sistema uno si stufa anche su uno vende bene un prodotto però dopo si stufa perché perché ha bisogno di novità quindi è per quello che ti dico che una valutazione di un brand anche da parte del cliente vuol dire avere uno storico dell'azienda capire come produce come lavora l'azienda e dare una continuità anche di di lavoro di di commercializzazione però a monte prima sono pochi i clienti che comprano un campionario uscito la prima volta prima hanno bisogno di vedere come come si presenta come va avanti gli acquisti di pancia molte volte vanno bene però non sono quelli che ci risolvono il problema anzi molte volte ce ne creano quindi è una è una tu sai che io su quelli che sono i clienti sono i confronti è una è una crescita che dobbiamo avere insieme al cliente non è una una coercizione certo allora Dante Dante dice se non ci decidiamo a fare formazione anche su come si deve confrontare come si deve comprare le collezioni sarà sempre un disastro per il settore come il vero significato di esclusiva intanto saluto tutti quelli che 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 ci stanno che ci stanno che ci stanno sopportando Franca e quindi sai il il fatto del delle esclusive è un altro è un altro tasto dolente no perché io storicamente devo vedere come era una volta nell'abbigliamento l'esclusiva nell'abbigliamento è una roba importante cioè se decidono di l'ottico sotto questo punto di vista è un po' è un po' viaggio un po' brigliasciolta nel senso che sono pochi i clienti che sanno che cosa vuol dire entrare in un contesto di esclusiva no? quindi cosa vuol dire? vuol dire che ti impegni a vedere una collezione cioè non puoi non dare continuità a un prodotto se tu mi compri una volta ogni tre uscite non puoi avere un'esclusiva cioè devi dare una continuità devi essere una vetrina molte volte i clienti ragionano ancora con con il fatto di poter dare questo a quell'altro quelle riflessioni che si possono fare a voce alta questo è l'occhiale giusto per ma sono delle vetrine le vetrine cioè se io vado a comprare un negozio di scarpe vado a comprare le scarpe dove trovo quelle che mi piacciono cioè quindi è una è una è una vetrina è un soprattutto poi con l'online adesso è una cosa ancora più più importante assolutamente la continuità e quindi è un po' un DNA diciamo del dell'esclusiva assolutamente ovviamente la il fatto di 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 crederci poi insomma Elena diceva appunto che cosa vuol dire scusi ma penso che le abbiamo un po' risposte eventualmente Elena facci sapere che ci ritorniamo ecco qua appunto eventualmente mi sembra che abbiamo già risposto ma nel caso ci ritorniamo Isabella troppi ottici vedono vedono ancora la gente come il piazzista e troppi agenti fanno ancora i piazzisti è che domanda è che domanda cioè qui possiamo aprire veramente altro che un'ora di discussione il grande problema che c'è stato è quando sono usciti tanti tanti agenti anche dalle grandi aziende perché hanno hanno adottato il modus operandi anche con brand di ricerca con micro aree distribuire in maniera più massiva quello che è un prodotto che andava centellinato quindi sai è un problema dopo arrivi a una saturazione molto in fretta quindi bisogna sempre cercare di avere un bilanciamento in queste cose non solo per amicizia si te lo compro perché facciamo danni molte volte facciamo danni veri noi agenti che lo andiamo a proporre magari il cliente per amicizia si fida però sai il sell out è limitato insomma non c'è una un'uscita così importante una rotazione così importante quindi certe cose vanno anche centellinate vanno proposte proprio con granosalis a dire no? con eh sì quindi sostanzialmente Damiano speriamo che in questo futuro cos'è l'evoluzione di Damiano nel tempo è meravigliosa da grande venditore a grande filosofo persona adorabile Dante Caretti bravo grazie Dante è un po' bravo grazie Dante è un po' la sintesi insomma di quello che abbiamo raccontato di Damiano che ha raccontato lui e che ci hai fatto intuire quello che volevo dire è che è Massimiliano Savo e il pericolo è lontano no scusa leggine il pericolo è far diventare il mondo del design come quello commerciale eh eh chissà se è un pericolo che abbiamo già corso oppure che nel quale incorreremo speriamo che questo momento abbia un attimino fermato le bocce no da questo punto di vista no tu cosa dici Damiano ma secondo me eh più che altro è la distribuzione che deve essere un po' riprese in mano con questo o 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 aia Damiano ti sei frizzato come facciamo e glielo diciamo eh Dani mettiamo un attimo giù eh sì allora facciamo così mentre io richiamo Damiano che si è proviamo a rimandare il video che mi hanno detto che non si è proprio visto eh mandiamo io richiamo Damiano e adesso mi hanno detto o 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 si sarà visto non lo so eccoci allora nel frattempo io ho approfittato perché sembra che il video non l'abbia visto solo tu non solo tu ma tutti non l'hanno visto quindi ho nella presa l'ho rimandato e se qualcuno mi dice sei andato mi fate una cortesia giusto per per sapere se era una collage di immagini e mi spiace che non sia andato prima speriamo che adesso sia andato quindi Damiano stavamo diciamo un attimino eravamo un attimino in in chiusura sostanzialmente stavamo parlando un po' del no avevamo la domanda di Massimiliano che è un peccato che non abbiamo fatto eccola qua la rileggiamo un attimo te la ricordi quella del mondo del design che potrebbe diventare come quello commerciale ritorniamo un attimo su questo che era molto interessante beh il mondo del del design è anche una visione strettamente strettamente personale il design normalmente lo nella nella vita di tutti i giorni lo lo creiamo a ricerca qualcosa di nonativo il design è legato anche a materiali a materiali a nuove scoperte a nuove intuizioni ed è questo che deve comunque contraddistinguere quello che è la nuova visione del mercato io mi piace pensare in questo periodo della mia vita sto cercando di personalmente sto cercando di di noi produciamo con tutti i prodotti che che ci offre che ci offre la terra no quindi approfittiamo di quello che è la benevolenza della terra per creare materiali nuovi mi piace pensare che riusciamo a produrre con dei prodotti sostenibili completamente reciclabili quindi la nuova sfida secondo me è dettata anche da questa coscienza quindi con degli amici mi sto muovendo a livello di ricerca importante anche su contesti stilistici da offrire ai clienti che non è molto semplice perché sai non sono ancora tra virgolette industrializzate quindi però mi piace pensare che la terra riprende in maniera pulita tutto quello che produciamo e non produciamo solo scorie è bella questa cosa sì assolutamente trovare delle alternative insomma totalmente bio è una bella idea compatibilmente sono delle belle conoscenze che mi piace pensare che mi fanno stare bene a pensare è qualcosa che tutto torna che fa tornare tutto il discorso che abbiamo fatto con te allora Damiano io insomma sono molto contenta di averti conosciuto in questa modalità digitale che è l'unica cioè in questo momento non è l'unica però sì perché siamo in due regioni diverse noi saremo qui quindi era l'unica e ti ringrazio perché innanzitutto è stato molto bello conoscere la tua storia ma anche le riflessioni che stimoli cioè l'esperienza che hai fatto dove sei arrivato in questo momento è quello che racconti che si vede che ti arriva direttamente perché sei davvero senza filtri cioè nel senso che arrivi veramente come sei e questa cosa qua è molto bella molto ho fatto tanta fatica nella vita per arrivare a questo risultato se mi dici che è così io sono felice ti ringrazio guarda noi non ci conoscevamo prima di ieri dell'altro ieri al massimo al telefono e ti dico arriva a tutto questo poi le persone che ti conoscono insomma lo hanno detto lo ti conoscono per questo quindi ti hanno ovviamente sottolineato ecco questo aspetto che a me è arrivato quindi ti ringrazio per 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 averti per esserti condiviso per aver condiviso con noi la tua esperienza te stesso quello che pensi e soprattutto anche quello che vedi in questo in questo settore lanciando un po' di luce ecco sul percorso e sulla possibilità che abbiamo di illuminarlo davvero magari con in una modalità nuova un po' più autentica sarà un mio sarà un mio piacere immenso la prima volta che che sono a Milano di venirti a trovare di contaminarci un po' con idee nuove guarda vieni a Milano e contaminiamoci di idee mi piace volentieri volentieri mi farebbe molto piacere allora Daviano io ti lascio salutare insomma come vuoi come faccio sempre con con tutti gli ospiti tutti quelli che ci sono intanto tutti quanti ti stanno salutando dopodiché ci insomma ci salutiamo anche noi Damiano dal ponte allora io ringrazio tutti chiaramente non ho potuto non ho potuto vedere quelli collegati però ringrazio tutti ugualmente vi auguro vi auguro di 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 tirar fuori il meglio di voi da questo momento qui e e che la serenità ci aiuti a vedere le cose realmente per quello che sono e non per quello che vorremmo che fossero grazie a tutti un bacione ciao grazie Damiano grazie ancora e alla prossima dal vivo magari va bene alla prossima ti ringrazio facciamo una puntata di radioottica direttamente insieme nella stessa telecamera sì volentieri 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 mi piace grazie Damiano grazie grazie a voi ciao 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 che bello che bello che bello che bella persona veramente bella allora cosa facciamo venerdì che è l'ultima insomma l'ultimo appuntamento di questa settimana nonché di questo mese di radioottica dov'è che l'ho messo l'appunto eccolo qua allora venerdì preparatevi perché c'è qualcosa che non abbiamo mai fatto a radioottica cioè sarà un venerdì di musica cioè nel senso non è che ci mettiamo a ballare no ma facciamo entrare nel mondo dell'ottica anche la musica che è un motore molto importante nella vita secondo me delle persone e che anche nell'ambito dell'ottica ha tanti personaggi a che ci si dedicano o che provengono da quel mondo oppure che sono in entrambi i monti e la puntata sarà presentata dal nostro Sabino Books da Altamura e avrà come ospiti Marco Benni Pretolani che è un figlio di ottico ma anche sassoponista e Saturnino Celani non poteva mancare anche lui che conosciamo molto bene che ha anche una sonia che si chiama Saturnino Allora Sabino cucirà questa bella puntata sta parlando dell'importanza della musica nei negozi comunque e quindi di musical design insomma una puntata dedicata alla musica venite pronti e magari visto che venerdì sera ci possiamo concedere anche un brindisi notturno se avete voglia e e poi insomma ci ci godremo questa bella questo bello appuntamento di Sabino con i suoi ospiti per il momento è tutto io vi auguro una buona notte vi mando un abbraccio circolare a voi tutti e ci vediamo venerdì con la puntata di Sabino Buss buona serata e sigla Buss c'è Buss Buss Grazie a tutti.